Siamo qui oggi per dare voce a tutte quelle donne che ormai la voce non ce l'hanno più! Siamo qui oggi per dare voce a tutte quelle donne che ormai la voce non ce l'hanno più! Siamo qui! 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 Siamo qui oggi per dare voce a tutte quelle donne che ormai la voce non ce l'hanno più! Siamo qui oggi a fianco anche delle donne palestinesi che negli ultimi mesi si sono ritrovate a subire violenze di ogni genere! Siamo qui! 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 Siamo qui!